Bella a tutti qui i Triface che vi parla ed oggi vediamo insieme la build di Chae parliamo del nuovo personaggio uscito con il banner evento ma soprattutto ci sono dei chiarimenti da approfondire all'interno di questo personaggio proprio per il fatto che vengono proposte delle build differenti ma anche dallo stesso sito ufficiale e non vengono prese invece in considerazione le meccaniche vere e proprie del personaggio primo punto da prendere in considerazione è proprio la sua prima mossa ossia la Q che è oltretutto una di quelle che le fa fare più danno insieme alla Ultimate quindi se andiamo a leggere la Q vediamo che questa è in grado di applicare una passiva una volta che questa critta una cosa che si ristacca ogni 20 secondi quindi vuol dire che solamente ogni 20 secondi potremo applicarla la prima volta che noi riusciamo a fare un critico questa Q per 3 secondi potrà essere usata praticamente limitate volte cosa che è impossibile perché in 3 secondi ne tiriamo 6 o 7 o una roba del genere e ad ogni volta che noi usiamo questa Q ci aumenterà l'attacco ed il danno critico altra cosa fondamentale è sicuramente la passiva infatti la passiva ci permette di marchiare i bersagli la percentuale colpo critico e i danni colpo critico subiti dal bersaglio aumentano del 12% e questo dura per 15 secondi quindi lei principalmente mette un marchio che non fa altro che aumentare i danni su quel bersaglio con una possibilità del 66% quando usiamo la Q altra cosa che dobbiamo capire è che la build di lei va in critico perché noi non possiamo attivare la passiva della danzatrice fin tanto che non usiamo almeno un critico su questa abilità quindi vuol dire che se noi non critiamo non si applica la passiva della danzatrice e di conseguenza non riusciremo a fare abbastanza Q per attivare invece la passiva di Chae parliamo infine della ultimate di Chae in grado di aumentare i suoi danni sui bersagli marchiati quindi vuol dire che il nostro scopo è sicuramente quello di marchiare i bersagli e di riuscire ad attivare la Q critica infatti servirà per forza una build col 50% di critico su Chae per massimizzare i danni in generale infatti poi il massimo danno lo applicherà con la ultimate a differenza di altri personaggi dove possono fare le skill rotation e tirare la ulti quando gli pare Chae potrà tirare la ultimate solamente dopo aver rastaccato il marchio e le passive della prima skill ma allora quali sono i set da dover utilizzare su Chae? ebbene è uno solo il set da utilizzare su Chae per quanto riguarda gli accessori a destra partiamo con il set rosso red eye proprio perché è in grado di aumentare le stack di attacco ogni secondo e visto che lei ha solamente 3 secondi per massimizzare questo danno in 3 secondi noi riusciremo ad aumentare questo accumulo di attacco necessario invece se avessi voluto utilizzare il set beast come riportato anche dal sito ufficiale partiamo con un incremento che è circa dello 0,8 che diventa 1,6% di aumento attacco cosa che invece sarebbe massimizzata con red eye perché red eye gli servono 4 secondi in totale per poter massimizzare l'attacco incrementale invece a questo set gli servirà molto più tempo di 3 secondi per questo motivo il set rosso è più indicato per massimizzare danni soprattutto della ultimate altra cosa interessante è che quando ci davano un set iniziale ci davano esattamente il lion questo set era utilizzato per chai invece ho visto le persone utilizzarlo su gmw non è colpa loro semplicemente non mi seguivano e quindi non potevano saperlo comunque questo set è sicuramente il migliore perché? perché chai una volta che aumenta le sue stelle è in grado di aumentare la percentuale critica di base quindi vuol dire che se io ho una chai con questo critico potrei anche non usare un set critico perché tanto lo aumenta da sola l'unica statistica che dovrei ricercare sono l'attacco in extra percentuale ed il danno critico per questo motivo lei non va buildata con il set di cuoio o ladder cosa invece differente è usare un lion set dove a paragone quindi di statistiche dove ha lo stesso danno critico percentuale critico attacco una differenza la farebbe il 4 di 4 dove può ignorare fino al 15% della difesa del bersaglio quindi vuol dire che qualsiasi suo danno il 15% diventerebbe un danno puro detto questo quindi il set migliore da utilizzare su chai sono sicuramente il lion e il red eye io come sempre vi ringrazio della visione e ci becchiamo alla prossima ciao a tutti